Siamo con il signor Guido Marino, che avanza a proposito dell'Infopoint una proposta, provocatoria diciamo così, ma è pur sempre una proposta commerciale. Qual è la proposta, signor Marino? Ci ho fatto la proposta al consigliere Giovanni Di Rozzi, che non si apre questo ioschetta, ma lo vuoi affittare a me? E che ci fareste? La friggitoria. Una friggitoria? C'è il pollo e il panzerotto napoletanamente. Quindi propagandate anche la cultura culinaria della Campania. Ma voi in passato avete già esercitato questa professione, quindi avete esperienza nel settore. E pensate che fittare l'Infopoint sarebbe utile da un punto di vista economico? Non guadagnereste realmente, non ce la fareste a recuperare le spese? Tutte le spese. E allora lanciamo questa proposta a chi di competenza attraverso le telecamere di Pupia.